Incredibile, è benigno. La gente fa pazzia per amore. No, la pazzia è andare in giro per il parco e discutere con i piccioni. Margo sa che cosa ha fatto. Ha sacrificato mezzo fegato in nome del suo matrimonio. No, ha fatto rimuovere chirurgicamente tutte le prove per nascondere la sua patetica bugia. È una storia triste e ingarbugliata, ma anche molto... romantica. Io neanche abbasso la tavoletta dopo aver fatto pipì. Vuoi parlare con me? No, neanche un po'. No, neanche un po' di più. No, neanche un po' di più. No, neanche un po' di più. No, neanche un po' di più.